Ciao Blenderisti, adesso vediamo un parametro che si chiama clipping, che è valido sia per la 3D viewport sia per la camera. Molto spesso utenti si lamentano della sparizione di parte dei loro lavori quando si allontanano con la camera o sulla 3D viewport. Come in questo caso mi allontano e come potete vedere il mio oggetto pare scomparire nel nulla. Questo è un parametro che si regola da, premendo il tasto N, facendo comparire quindi la scheda di destra del 3D viewport e andando sul pannellino view, potete vedere che c'è, oltre al discorso di poter regolare l'apertura focale dell'obiettivo, esiste anche un parametro clip start e clip end. Aumentando, il mio consiglio è quello di metterlo a mille se non avete particolari esigenze, aumentando il clip end il nostro oggetto non ha più quell'effetto sgradevole di sparizione nel vuoto. Lo stesso può avvenire anche frontalmente, anziché posteriore al nostro oggetto, utilizzando il clip start, quindi aumentandolo, come potete vedere, cambia il parametro. Quindi che cosa succederà? Che quando mi avvicino avremo questo tipo di effetto, effetto sezione del nostro oggetto 3D. Il mio consiglio è quello di non lasciarlo, il clip start di non lasciarlo a 0.01, ma di lasciarlo a 0.100, d'accordo? Per evitare sgradevoli visualizzazioni quando ci allontaniamo troppo molto con la telecamera e ci sono oggetti testurizzati o comunque di grande dimensione. Quindi questi parametri del clipping sono validi anche per quanto riguarda la camera. Andando sulle impostazioni della camera abbiamo qua sempre l'apertura focale, poi abbiamo clip start, stesso funzionamento per quanto riguarda 3D viewport, lasciatelo a 0.100. E il clip end, stesso discorso, se aumentiamo, cioè se diminuiamo il clip end e ci allontaniamo dal nostro oggetto, chiaramente questo oggetto scomparirà, va bene? Il mio consiglio è quello di tenerla a 1.000 se non avete esigenze particolari, in maniera tale di avere libertà di movimento senza nessun tipo di problema. Va bene? Con questo è tutto, vi ringrazio, ciao!